Musica Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe i tanti cittadini dalma, tilistriani che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della seconda guerra mondiale qui c'è stato un campo che era un vecchio campo di concentramento che li ha accolti per tanti anni a noi il compito di non voltarci dall'altra parte a noi il compito di ricordare Seduta a Solenne del Consiglio regionale della Toscana per celebrare il giorno del ricordo che si trasferisce nel teatro comunale di Laterina il comune della provincia di Arezzo infatti ospitò il più grande campo profughi della Toscana come spiega il sindaco di Laterina per Ginevaldarno A Laterina nel 1941 si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi poi dopo la guerra è diventato un campo profughi per appunto coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia quindi qui a Laterina sono arrivati tantissimi profughi nel 1948-1949 erano circa 3000 profughi con una popolazione del comune di 3300 abitanti quindi si può capire anche quale sia stato l'impatto questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i laterinesi si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza e il dramma delle foibe che da altre parti è passato sicuramente inosservato e non ricordato per tanti anni qui a Laterina era ben presente Ricordi vivi nella memoria di Maria Claudia Valdini figlia di un esule giunto dalla costa orientale dell'Istria La nostra famiglia è stata divisa quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali e quindi dal 2004 questi 20 anni di celebrazione è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie con i suoi scritti perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli e quindi onorata di essere qui I racconti dei protagonisti hanno animato la seduta solenne del Consiglio regionale fra questi Guido Giacometti esule istriano referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Ricordo personale diciamo ricordi del Campoprofo io ero piccolissimo il Campoprofo era vissuto in maniera diversa dagli anziani con una tristezza infinita i bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte era quasi un gioco però per i grandi era molto pesante soprattutto per gli anziani che poi sono finiti spesso in case di riposo perché non si poteva assistere dal punto di vista medico oltre un certo livello Poi una sua riflessione su quanto fatto dai governi italiano sloveno e croato Si pensare che la Slovenia che è grande come la Toscana ha messo una commissione che lavora già da 15 anni ed è lavorerà ancora per i prossimi 5 e ha individuato in una zona tipo come la Toscana 600 fosse comuni fosse comuni da poche persone fino a 4.000 quindi in Italia e in Croazia c'è ancora molto da fare Dopo la seduta l'Assemblea si è spostata alle baracche che ancora testimoniano la presenza del campo profughi di La Terina qui è stata deposta una corona in ricordo di quanti vittimi dell'esodo persero la vita Un dramma per troppo tempo dimenticato una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane non soltanto nel dramma delle foive ma anche nell'esilio ed è corretto è doveroso mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne alla Terina una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini avere sofferto battere che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foive dell'esodo degli estriani e dei dalmati e sono particolarmente soddisfatto oggi di aver proposto suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del consiglio regionale e ringrazio tutto l'ufficio di presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la vita in quel campo diciamo di assistenza dei profughi e storia della Toscana qui alla Terina dove una parte della storia degli esuli di casa nostra viene raccontata e viene celebrata nel giorno del ricordo un altro tassello di quella storia da ricostruire e mettere assieme per una memoria condivisa sotto l'auspicio e sotto il patrocinio della regione toscana ma il consiglio regionale secondo me adempia i suoi obblighi ogni volta che costruisce partecipa e promuove eventi che consentono di approfondire fatti complessi della nostra storia come la storia del confine orientale durante la seconda guerra è un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani perché solo dando un nome corretto alle cose comprendendo i fenomeni si può dar loro quella base solida che consente di crescere e di edificarsi anche nel loro apporto alla cittadinanza e alla comunità dei cittadini e delle cittadine in modo consapevole pieno e ricco come presidente della commissione istruzione e cultura credo che sia doveroso coltivare la comprensione della complessità non solo riguardo alla storia ma anche riguardo al presente ha fatto tappa a lucca il corecom tour la campagna di informazione e comunicazione che il comitato toscano per le comunicazioni sta svolgendo tra le province toscane quinto appuntamento per fare a conoscere e spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel mondo delle telecomunicazioni all'età varie funzioni abbiamo quella di sovraintendere sulle programmazioni radio televisive all'interno della toscana di avere un'attenzione particolare durante la fase della par condicio di portare avanti il tema dell'educazione digitale soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale che è un corso che organizziamo con l'istituto degli innocenti proprio per rendere l'uso dei social e del web in modo consapevole e sicuro per le ragazze e ragazze che lo utilizzano e sappiamo quanto sia un tema delicato e importante di grande attenzione come sottolinea il presidente Marco Meacci una delle funzioni principali è quella di conciliazione tra utenti e compagnie telefoniche che ciascuno di noi spesso così si trova in difficoltà in questa situazione per cui il Corecom istituzionalmente come funzione delegata da Agicom svolge questa funzione a titolo completamente gratuito dando risposte positive a centinaia a migliaia di persone che ogni anno si rivolgono ai nostri uffici e che appunto trovano questo ausilio e questa collaborazione noi siamo in giro per la Toscana proprio perché vogliamo far conoscere fino in fondo queste possibilità queste funzioni questi servizi a tutela del consumatore e dell'utente che come dicevo fra l'altro sono a titolo gratuito e vogliamo che le istituzioni i cittadini le scuole le imprese ne siano pienamente consapevoli e possano utilizzarlo quando necessario avviare in tempi rapidi il percorso per chiamare Enel Green Power a presentare il proprio piano industriale si parla di geotermia in aula con una risoluzione che viene approvata a maggioranza ed illustrata dal consigliere regionale Andrea Pieroni la risoluzione arriva in virtù di quanto deciso dal decreto energia dell'e-governo dello scorso 2023 quindi la regione dovrà chiedere a Enel Green Power di presentare un proprio piano pluriennale di investimenti che deve rispondere a tutta una serie di requisiti che la legge individua quindi la manutenzione e il miglioramento degli impianti attuali investimenti per nuovi impianti sicurezza occupazione salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute ecco alla luce del piano industriale che Enel Green Power presenterà la regione sarà chiamata a valutare la fattibilità e la rispondenza di questo piano ai requisiti ai presupposti della legge e qualora questi presupposti fossero validati la regione potrà diciamo rinnovare le concessioni per un massimo di 20 anni quindi un obiettivo importante un'opportunità da accogliere il documento passa a maggioranza oltre al PD sì anche da Italia Viva importante per la Toscana lo è per l'Italia lo è per la nostra economia è una fonte alternativa di energia che si può riprodurre e come tale deve essere valorizzata può produrre lavoro produce lavoro produce redditività e come tale la regione Toscana deve fare il massimo nelle proprie funzioni per fare in modo che le concessioni vengano riattivate sì anche dal centro-destra Fratelli d'Italia e Lega per Fratelli d'Italia bisogna innanzitutto ringraziare il governo che ha permesso il rinnovo delle concessioni sembrava fosse una partita impossibile una partita dove non si sarebbe potuto andare incontro a una proroga così lunga invece il governo si è assunto la responsabilità e ha fatto una proroga ventennale per la concessione geotermica il governo è il titolare della concessione la regione è la centrale appaltante questa proroga è però condizionata noi oggi chiediamo che la regione Toscana acceleri facendosi parte diligente anche nei confronti del gestore la scrittura di questo piano industriale che convochi allo stesso tavolo l'attuale gestore ma anche gli enti locali i comuni interessati le imprese del territorio perché chiaramente si tratta di una partita complessa che rappresenta tantissime persone tanti comuni ad oggi aggiunge la consigliera della Lega Elena Meini i territori non sono stati ancora coinvolti noi abbiamo chiesto a gran voce alla giunta regionale che questo percorso di tavolo di accordi tra Enel Green Power tra i comuni tra le imprese le associazioni di categoria inizi il suo percorso perché il termine ultimo è il termine del 30 giugno però la maggior parte anche di quelle amministrazioni di quei comuni coinvolti nell'area geotermica andranno al voto l'8 e 9 giugno quindi dal mese di aprile dalla metà di aprile saranno in procedura di ordinaria amministrazione quindi i sindaci soprattutto ci chiedono di velocizzare questo ITER perché nel momento in cui loro entreranno in campagna elettorale ma soprattutto dal punto di vista amministrativo entreranno in ordinaria amministrazione non avranno più la possibilità di intervenire diciamo e dire la loro su quei territori per cui la risorsa geotermica è il petrolio della Toscana voto contrario arriva invece dal Movimento 5 Stelle la geotermia della Toscana non è tutta uguale mentre può essere una geotermia buona nella zona di Larderello dove non ha conseguenze sugli abitanti non si può dire la stessa cosa nella zona del Monte Ammiata dove studi scientifici fatti proprio dalla regione toscana evidenziano la presenza nel sangue nei capelli degli abitanti di quella zona della presenza di sostanze non proprio salutari come l'arsenico il capmio il taglio sono tutte sostanze gravemente nocive per la salute quindi non riusciamo a capire come la regione toscana all'unisono tra Italia Viva PD e tutta la destra si concorde nello sviluppo di questa attività geotermica in quella zona soprattutto senza avere un piano industriale in mano da valutare e neanche sapere l'entità degli investimenti che si vogliono fare in quella zona io a differenza di tutti gli altri vorrei sapere quante centrali geotermiche si intende costruire e soprattutto perché non si vuole fare una gara oggi la situazione è in leggero miglioramento sicuramente la fase di emergenza non è terminata perché come lo diciamo sempre fino a quando tutte le famiglie di Campi non saranno rientrate nelle proprie abitazioni per noi non sarà terminata la fase di emergenza a tre mesi dagli eventi alluvionali il sindaco di Campi Bisenzio fa il punto sulla ricostruzione proprio in questi giorni stanno arrivando le prime mail per il rimborso alle famiglie da 3.000 euro da parte della regione questo naturalmente è un primo rimborso un primo sostegno ma siamo estremamente preoccupati ancora per il risorio successivo pensate siamo ormai tre mesi e ancora non è stato nominato il commissario per la ricostruzione l'occasione è la presentazione in consiglio regionale del docufilm Casca il cielo realizzato dai registi pisani Lorenzo Garzella e Roan Johnson ci hanno ispirato tre azioni principali la prima è stata quella di ascoltare quindi andare nei posti in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona la seconda cosa è stata quella di guardare e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a due mesi di distanza cosa c'era rimasto e la terza cosa che forse è la più importante è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte video degli stessi cittadini che raccontano quelle drammatiche ore testimonianze le immagini del dopoalluvione quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità che quando ci sono queste tragedie poi si unisce paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro adesso grazie a un accordo con Confesercenti il trailer del docufilm sarà trasmesso in tutte le sale della Toscana ed è un modo per continuare a chiedere alle cittadine e ai cittadini toscani di dare il proprio contributo sostenendo le famiglie che sono in difficoltà e che ancora non hanno riavuto la loro casa raccolta fondi partita inizio gennaio al Mandela Forum di Firenze nella serata Toscana & Friends che vide sul palcoscenico numerosi artisti in solidarietà con le popolazioni alluvionate il comitato ha raccolto 75 mila euro di fondi che nei prossimi giorni saranno destinati ma grosso modo saranno destinati ai comuni maggiormente colpiti indicando luoghi significativi per la vita sociale delle persone questo è quello che hanno voluto gli artisti Stefano Mazzini e Piero Pelù in prima persona che hanno voluto questa serata ci hanno messo come si dice la faccia per chiamare i colleghi e per costituire un cast stellare che se avessimo dovuto ingaggiarlo in termini commerciali sarebbe costato tantissime migliaia di euro ma così non è stato perché tutte le persone che hanno lavorato così dal noi per così dire staff tecnico fino all'ultimo degli artisti hanno partecipato gratuitamente che non è stato